Ciao! Allora, dato che a noi ci servono le uova per colorarli per la Pasqua, dobbiamo, prima cosa fare, soffiare le uova. Sicuramente qualcuno non lo sa come si soffiano le uova. Allora, noi abbiamo deciso di fare una gara la mamma contro figlia. Chi sarà? Primo a soffiare un uovo! Questa è Arte Green, io sono Licia e io sono Yolana. Siamo chiuse in casa e dobbiamo fare lavoretti artistici, quindi cerchiamo di passare il tempo. Allora, vogliamo fare questa gara? Dobbiamo semplicemente fare un buco con lo spillo da una parte e dall'altra, allargarlo con lo stecchino, con lo stuzzicadenti e vedremo chi sarà il primo a soffiare l'uomo. In pratica l'uomo deve uscire da qui e entra dentro questo uomo. Vediamo, inizieremo subito. Pronti? Via! Non riesco a bucare! Siamo solo all'inizio! Non scoppiare, mamma! Dai, non mi fai ridere! Io se ho il pacco l'uomo lo puremo! non mi fai ridere! Io ho finito No No c'è ancora un pochino Non mi esce più niente Io ho finito Sì Lei è morta Pur di vincere Ha pezzo al piatto ma Non vince Questo è il mio risultato I giovani di oggi Non riescono a fare niente Te la devo soffiare io? No No Non va a uscire Soffia soffia Fiatto fiato Mi cattò C'è che è così Dovevi un po' sbatterla prima Non mi fai l'idea Testa è scoppiata Vai 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 brava Ce la fai ce la puoi fare Ce la fa Ce la fa Quasi un minuto Anche due di ritardo Ma ce la fa E non era nemmeno faticoso Già è andata bene Soffia Un'altra volta Sì Già Ti serve aiuto? Vai 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 Oh no Che strano Troppo facile Vincere con un luogo facile Ce l'ho fatta Vecchi contro giovani Troppo facile E dice Sono stata più forte Ha vinto lei Allora una volta fatto quello Che hanno fatto Che hanno soffiato L'uovo va pulito Lavato anche dentro Perché se no dopo puzza E poi una volta pulito per bene Sono pronti per fare tante decorazioni E per la Pasqua Vedete Sul nostro sito Dove vedete tanti modi Per decorare le uova In maniera affettiva E divertente Anche con i bambini Quindi se vi è piaciuto Questo tutorial Siamo sicuri che vi è piaciuto E siamo sicuri che anche voi Volete fare questa sfida Mandateci qualche video Anche a noi Così rideremo anche noi Quindi iscrivetevi a questo canale E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao